Una truffa organizzata nei minimi dettagli, articolata ai danni di un gioielliere di Campobasso ma sventata dai poliziotti della squadra mobile e dalla stessa vittima del tentatore a giro. Il commerciante del capologo era stato contattato a telefono solo un imprenditore e così si era spacciato l'uomo, con accento napoletano, che aveva chiamato dicendosi interessato all'acquisto di alcuni orologi Omega, 5 in particolare per un importo di 15.850 euro da pagare attraverso assegno circolare. Dato l'assenso alla trattativa, non fidandosi però il gioielliere ha voluto verificare l'assegno concordando un incontro con l'acquirente, intanto avvertito la polizia all'appuntamento in una banca in via Principe di Piemonte si è presentata una donna di 51 anni campana per conto del sedicente imprenditore. Con l'assegno circolare il direttore della filiale ha telefonato alla banca di Torre del Greco recuperando il numero dall'elenco ufficiale dell'ABI. Convinto di parlare con l'istituto di credito ha avuto le informazioni e le garanzie per l'effettuazione del versamento sul conto corrente del gioielliere, ma le verifiche della mobile hanno portato alla luce la truffa. La telefonata alla banca di Torre del Greco in realtà era stata deviata a un complice della donna e non alla filiale, il cui centralino da giorni risultava avere guasti. Inoltre si è scoperto che il numero da cui chiamava il falso imprenditore era da utenza intestata a una multinazionale di Milano. Ben congegnata perché in questa modalità di truffa c'è cascata anche il sistema bancario che normalmente utilizza la modalità telefonica per avere la conferma della bene missione, bene fondi, insomma, qualora si tratti di negoziare assegno. Quando la società transazione effettuata ha ritirato gli orologi è stata bloccata e arrestata dai poliziotti aveva una carta di identità falsa emessa a favore della presunta titolare del conto della banca di Torre del Greco dal quale sarebbe stato tratto l'assegno utilizzato per pagare gli orologi, ma il cui numero di documento è riferibile a una carta di identità rilasciata dal comune di Milano a un uomo che prima ne ha denunciato lo smarrimento e poi l'ha ritrovata e restituita per essere distrutta. Nessun assegno era stato emesso con quel numero e importo dalla banca campana, ma era clonato, negoziato prima in un'altra filiale e per diverso importo. Un raggiro uguale era stato fatto ai danni di un gioielliere di Castel di Sangro. Per la donna le accuse sono truffa aggravata, sostituzione di persona e uso di carta di identità falsa. Ora vedremo con la collaborazione della procura di Campobasso, con la dottoressa Venditi che è il PM che cura questo caso, di riuscire a scalare l'organizzazione e vedere un attimino chi c'è dietro, perché basta navigare sul web per trovare tutta una serie di truffe fatte con questa modalità.